Da lunedì la nostra regione tornerà in zona gialla se i numeri delle terapie intensive resteranno tali. Il tetto massimo per il cambio del colore in arancione è il 20%, l'Abruzzo è un soffio il 19%, tanto basta per lasciare l'arancione. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. È vero, siamo ad un passo dal tornare in zona gialla, da lunedì potrebbero ridurre quelle che sono le restrizioni, è diminuito il tasso di positività, sono diminuiti i ricoveri nell'area critica, però è importante valutare adesso i ricoveri dell'area medica. In ogni caso il cambio di colore non è così importante nel determinare quelle che sono le restrizioni della nostra regione, perché sono restrizioni finalizzate soltanto prevalentemente ai non vaccinati. Le terapie intensive sono scese, quindi questo è un dato importante per la nostra regione. Ci auguriamo che tra poco potremmo uscire, ce l'auguriamo, fra qualche settimana, dalla forma particolarmente acuta, quella complessa per quanto riguarda il Covid, e ci auguriamo di tornare dopo metà febbraio verso una normalità. C'è un tetto che è rappresentato da una percentuale. Sì è vero la percentuale della media nazionale del 20%, noi ad oggi siamo al 19%, se si conferma questo dato ci sarà il cambio di colore. Se si supererà, certo resteremo nella fascia del colore arancione, se saremo nella media, ossia non superiamo il 20%, è una valutazione che il Ministero dovrà attuare. L'assessore Veri insiste sull'importanza della vaccinazione. La vaccinazione, come è stato più volte ripetuto, è l'unico strumento valido per non ricoverarsi in ospedale, questo è il messaggio importante. Devo dire che noi abbiamo ancora più di 65.000 gli over 50 non vaccinati, però è anche vero che molti di questi già hanno avuto il Covid. C'è un target di popolazione che ci registra tra le ultime regioni a vaccinare i bambini, il target dell'età pediatrica. C'è una campagna di sensibilizzazione, ma più che altro di informazione da parte dei pediatri per spiegare ai genitori l'importanza della vaccinazione anche per evitare il Long Covid. Grazie. Grazie.